Di Battista le piace? Sono il papà Non ti fai la cosa che è di destra Sono fascista è un'altra cosa Io preferirei il ministro dell'interno perché spero che possa diventare più cattivo del padre All'oggi, all'oggi, all'oggi fascisti E quindi chi te se strancurà e chi te se strancurirà